In aumento i dati dei positivi al covid in Campania e nel Salernitano, in crescita l'arrivo sul territorio di famiglie dall'Ucraina, liste d'attesa in incremento. Sono numeri in risalita quelli registrati dall'asale di Salerno che definisce però la popolazione ucraina comunque non contagiante sulla scorta dell'esito dei tamponi che con basse percentuali ha rivelato pochi casi positivi. Ma mentre si lavora per vaccinare i profughi si riduce il numero delle dosi booster tra i salernitani e il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile dell'area covid dell'asale di Vianizza, a tracciare una sintesi degli ultimi giorni proiettato anche verso il 31 marzo, data fissata dal governo per il fine stato di emergenza che comporterà anche la chiusura di diversi centri vaccinali. Nella città di Salerno il primo a chiudere i battenti è stato il Teatro Augusteo. Noi abbiamo ospitato circa mille persone dall'Ucraina in questo momento, abbiamo registrato nel nostro sistema di accoglienza dando loro il codice provvisorio STP 954 persone. A queste persone abbiamo fatto i tamponi e positivi ne sono usciti una decina, dieci, dodici, non di più. Questo significa che questa popolazione che viene da noi non è in questo momento una popolazione contagiante. È vero però che è una popolazione che ha bisogno di tante altre cose, tra l'altro anche di essere vaccinata perché è una popolazione largamente non vaccinata, non solo per il Covid ma anche per le vaccinazioni tradizionali. Per cui noi stiamo mettendo in piedi un sistema in cui le persone arrivano, vengono iscritte nel sistema assistenza sanitaria, viene fatto il tampone, viene programmato il vaccino anti-Covid e verrà programmato per loro anche le vaccinazioni dell'infanzia. La metà di questa popolazione sono ragazzini e infanzia, altra metà sono donne. faremo anche un minimo di accoglienza, di assistenza sanitaria, di prime visite e stiamo cercando di integrare in queste funzioni le nostre strutture sia USCA sia le nostre strutture vaccinali. Per l'altra domanda, di fatto noi in questi giorni abbiamo un incremento di positività. Non c'è un incremento di sintomatologia per cui gli ospedali sono ancora tranquilli, però dal 12-13% che avevamo avuto fino a 15 giorni fa di circolazione del virus come tracciamento dei tamponi positivi siamo saliti al 16-17%. Questo significa che la malattia non è sconfitta, che la circolazione del virus è ancora presente e che per questo dobbiamo da una parte completare prima possibile con grande sforzo le vaccinazioni, rifare le terze dosi, fare le seconde nei bambini più piccoli. Noi abbiamo avuto una flessione di presenza presso i centri vaccinali, questa flessione è consistente ma è importantissimo che prima che finisca il periodo dell'emergenza vaccinale si vada prima possibile a vaccinarsi.